Il ruolo della piattaforma tecnologica nell'ambito dell'erogazione ai comuni metropolitani dei moduli REI, SIUS e cartella sociale informatizzata della piattaforma SISA è assolutamente centrale, nel momento che è altamente configurabile, è multiutente, è scalabile ed è soprattutto aperta all'esterno, a ecosistemi esterni in termini di interoperabilità. Sia applicativa che dati. Questo ha consentito l'erogazione ai comuni di un sistema non solo funzionale dal punto di vista organizzativo e che quindi corrisponde a un'esigenza specifica dei comuni nella raccolta e nell'implementazione delle domande del REI, ma ha consentito anche l'applicazione del principio di sussidiarietà rispetto alla connessione a IMSS in cooperazione applicativa.